Ciao ragazzi, oggi parliamo di batteri rimovibili negli smartphone, quindi parliamo in generale di smartphone e come sempre, come vi ricordo sempre, quando faccio questo genere di video non voglio dire che ho ragione o non voglio dire che quello che dico io è vero o meno, non devo portare fatti a carico, appunto a dimostrazione che quello che dico è vero, ma è semplicemente una chiacchierata, quindi poi voi nei commenti sarete liberissimi di scrivermi quello che ne pensate, se pensate che abbia ragione o se pensate che abbia detto un mare di cavolate va benissimo, nessun problema, l'importante è appunto che il confronto avvenga in maniera civile, senza insulti, senza questo genere di cose Sicuramente molti di voi si ricorderanno che fino a qualche anno fa gli smartphone avevano le batterie rimovibili qualche anno fa, magari anche un po' di più di qualche anno fa, fino al 2016-17 tutti gli smartphone praticamente avevano le batterie appunto rimovibili quindi era bello diciamo perché se lo smartphone si frizzava, quindi magari smetteva di funzionare, si bloccava bastava rimuovere la batteria e poi riaccenderlo e si risolveva il problema oppure se magari dopo qualche anno la batteria non durava più niente e appunto però lo smartphone funzionava ancora bene si poteva cambiare semplicemente la batteria, quindi costava poche decine di euro, 20-30 euro e quindi appunto con questa piccola spesa potevamo diciamo ringiovanire uno smartphone che però funzionava perché magari dopo 2-3 anni la batteria non dura più niente però lo smartphone di per sé funziona ancora bene magari non sarà performante come quando era nuovo ma funziona appunto ancora bene all'improvviso però sempre più aziende hanno iniziato ad integrare la batteria cioè ad installarla in modo che non fosse più rimovibile rendendo di fatto ovviamente impossibile la rimozione quindi appunto il cambiarla diciamo ad un utente che non ha le strumentazioni adatte perché comunque per smontare uno smartphone che generalmente negli smartphone con batteria non rimovibile la back cover è incollata con colle particolari ci vogliono anche delle strumentazioni se un utente non le ha ovviamente non può aprirlo e anche ammesso di avere tali strumentazioni comunque poi bisogna dissaldare la batteria perché spesso è saldata proprio quindi bisogna dissaldarla il che è pericoloso insomma non è alla portata di tutti di sicuro all'inizio appena ci si è accorti che questo trend iniziava a prendere piede comunque le aziende che producevano smartphone con batteria integrata erano poche per cui si consigliava di acquistare smartphone di cercare smartphone quando una persona lo doveva cambiare che avesse appunto la batteria rimovibile quindi a volte anche a me capitava che mi chiedessero quale smartphone mi consigli io dicevo guarda non so dirti un modello perché non sono aggiornato sugli ultimi modelli usciti come non lo sono oggi però guardati un po' in giro le recensioni e assicurati che lo smartphone che hai scelto abbia la batteria rimovibile perché in questo modo se fra 2-3 anni la batteria non durerà più niente non dovrai spendere nuovamente 3-4-500 euro 200 quello che è per cambiare smartphone ma potrai spenderne 20-30 per cambiare semplicemente la batteria molti utenti ovviamente si chiedevano ma perché state integrando le batterie? cioè perché non potete continuare a lasciarle rimovibili in modo che noi ce le possiamo cambiare? e la risposta ci è subito stata data siamo costretti a farlo perché volete smartphone sempre più leggeri sempre più sottili e per aggiungere questo dobbiamo fare in modo che le batterie non siano rimovibili dobbiamo appunto fare in modo che la batteria sia saldata perché comunque il connettore crea spessore tutto quello che ci va dietro e quindi dobbiamo togliere questa possibilità in questo modo avrete smartphone sempre più leggeri e sempre appunto più maneggevoli il che da un certo punto di vista potrebbe anche essere vero perché sicuramente il connettorino della batteria occupa sicuramente dello spazio vi ricorderete le batterie di una volta avevano appunto le 3-4 piazzole quelle che erano e ci voleva nella scheda madre dello smartphone il connettore che appunto ci permettesse di collegare questa batteria e questo connettore magari occupa anche 4-5 mm, mezzo centimetro no, mezzo centimetro è tanto occupava qualche millimetro ma è comunque uno spazio considerabile ingombrante se vogliamo che lo smartphone sia sempre più leggero da un altro punto di vista però sinceramente mi è sempre sembrata la risposta del tipo non includiamo più i caricatori perché così inquiniamo meno qualcosa di questo genere che dici vabbè sarà però sinceramente non lo so ma dico che questa cosa degli smartphone appunto sempre più leggeri potrebbe essere vera perché vi ricorderete io ho ancora uno smartphone con batteria rimovibile non il mio ovviamente ma uno che avevo qualche anno fa e mi ricordo appunto che erano molto più erano dei bei mattoncini che pesavano anche di più ora non è che pesassero chili però comunque pesavano un po' di più erano un po' più spessi, tendevano a essere grossi in generale mentre oggi anche a parità di pollici dello schermo sono molto più leggeri di conseguenza più sottili anche quindi più maneggevoli in tasca stanno bene, non li senti nemmeno quindi per questo motivo dico che la storia del connettore potrebbe anche essere vera tralasciando comunque il fatto che per logica più uno smartphone è leggero più dovrebbe tendere a scaldare perché comunque i componenti sono più vicini anche la back cover stessa è più vicina al processore però vabbè a noi questo non interessa e anzi potrebbe addirittura essere un lato positivo d'inverno quando abbiamo le mani congelate prendiamo in mano lo smartphone lo utilizziamo per attività un po' più intense e ci fa anche da scaldamano multifunzione quindi può anche andare bene però al di là di questo a parte gli scherzi oggi vorrei fare questa chiacchierata con voi e dirvi i motivi per cui secondo me non è solo un discorso di maneggevolità se esiste una parola di questo genere non è comunque in generale solo un discorso di sottilezza dello smartphone o di leggerezza di questo genere di cose ma potrebbe anche esserci qualcosa diciamo di un po' più complottistico diciamo così dopo però vediamo un'altra cosa ora viviamo in una società estremamente consumistica e credo che questo sia di fatto sotto gli occhi di tutti abbiamo smartphone che vengono aggiornati per due anni poi lo devi cambiare perché se no la versione android diventa vecchia non hai più le patch di sicurezza quindi diventa insicuro e poi le applicazioni non sono più supportate perché hai una versione android troppo vecchia e poi diventa lento e poi diventa il modello 20 volte indietro rispetto a quello nuovo e la stessa cosa accade anche sui computer abbiamo sistemi operativi che ormai hanno dato di fatto che abbiano l'obsolescenza programmata per cui dopo qualche anno che quel sistema operativo installato tendrà a lentarsi diventa molto lento facendo credere all'utente inesperto che il computer sia da cambiare di fatto poi non è così perché reinstallando il sistema operativo o installandone un altro torna esattamente come prima diciamo torna alla luce iniziale mettiamola così però viviamo appunto in una società che tende a farti pensare che il prodotto che hai anche se magari l'hai comprato solo due o tre anni fa è vecchio e meglio che lo cambi quindi una società comunque incentrata sul farti sempre comprare il modello nuovo sul farti sempre spendere soldi in generale e credo che questo ripeto sia ormai sotto gli occhi di tutti alla luce di questo spiegatemi ora io come dovrei credere che il discorso della batteria non rimovibile sia solo un discorso di leggerezza sottigliezza e tutto quello che ci va dietro le batterie generalmente hanno un ciclo di vita che va dai due a tre anni se caricato tutti i giorni quindi generalmente dopo che tu hai uno smartphone da due o tre anni la batteria inizia a perdere capacità quindi inizia a durare meno magari non ti fa più una giornata intera ma te ne fa poco più di mezza magari inizia a fare fatica ad arrivare a sera usandolo meno magari ci arrivi però diciamo è normale che la batteria abbia un'usura quindi è normale che poi duri meno però è anche vero che dopo due o tre anni uno smartphone funziona ancora bene comunque ripeto sicuramente non sarà performante come l'ultimo modello appena uscito ma non è nemmeno da buttare e quindi un utente potrebbe pensare beh però non vado a spendere 200 euro per cambiare smartphone ne spendo 20-30 per cambiare la batteria e ho uno smartphone che per altri due anni potenzialmente va bene poi magari dopo che uno smartphone inizia ad avere 4-5 anni lì puoi già pensare di cambiarlo però dopo due anni no ma se la batteria è integrata e non è rimovibile questo ovviamente non è più possibile lo devi mandare in assistenza però tralasciando i tempi blibrici dell'assistenza te lo tengono fermo un mese e tu dopo un mese te lo vai a ritirare se ti erano arrivati i messaggi eh cavoli tuoi se avevi un telefono vecchio sotto mano ben per te e se no ci dispiace ma l'assistenza di uno smartphone fuori garanzia generalmente costa non dico come uno smartphone nuovo ma poco meno quindi un utente potrebbe dire cavolo io ho il mio smartphone da 3 anni mettiamo cambiarlo comprando uno nuovo mi costa 200-300 euro mandarlo in assistenza per cambiare la batteria magari me ne costa 150-200 a questo punto per una differenza magari di 50-100 euro non ha senso riparare uno smartphone vecchio diciamo uno smartphone uscito qualche anno fa ne compro uno nuovo per pochi soldi in più e uno smartphone appunto nuovo quindi credo abbiate capito un po' dove voglio andare a parare rendendo la batteria non rimovibile ovviamente invogli di più le persone a cambiare di fatto lo smartphone prima che effettivamente smetta di funzionare o diventi troppo lento inizia a diventare incompatibile con le applicazioni necessarie e questo genere di cose però però ad essere sincero io ho uno smartphone il Samsung Galaxy A5 2017 che dopo 4 anni e mezzo l'ho comprato a settembre 2018 la batteria mi fa ancora una giornata più o meno poco o meno io comunque non lo uso tantissimo perché lavoro al computer per cui l'utilizzerò una forse due ore al giorno quindi è normale che mi faccia tutta la giornata però anche usandolo magari a volte nel weekend capita che lo uso per più tempo magari per più ore appunto anche la sera magari quando non ho niente da fare a volte leggo a volte uso lo smartphone appunto e comunque la batteria se usato diciamo tutto il giorno non lo uso mai tutto il giorno ma comunque se usato molto tempo a schermo mi fa ancora 2, 3, 4 ore ascoltando musica con il wifi con la connessione dati quindi comunque ancora un'ottima durata quindi probabilmente questo discorso non è vero quello che ho appena fatto diciamo sull'invogliare le persone a cambiare smartphone prima del tempo non è del tutto veritiero o comunque è veritiero in parte magari probabilmente è più vero che le aziende vogliono produrre smartphone sempre più leggeri eccetera eccetera ed è proprio per questo motivo che entra in gioco il complottismo se non posso rimuovere la batteria lo smartphone potenzialmente rimane sempre acceso certo io posso spegnerlo e sembra spento perché se premo i tasti hardware non ha nessuna reazione quindi se premo il tasto home lo schermo non si accende oppure se faccio doppio tap lo schermo non si accende e sembra appunto effettivamente spento però essendo che la batteria è sempre collegata e che io non posso rimuoverla la scheda madre rimane sempre potenzialmente alimentata e quindi il microfono e o fotocamera potrebbero continuare a rimanere in ascolto diciamola così possono comunque potenzialmente rimanere utilizzabili anche il GPS può rimanere utilizzabile quindi anche se lo smartphone è spento comunque potrebbe tracciare la mia posizione se mi sto muovendo potrebbe capire dove sto andando eccetera eccetera ora non voglio mettere allarme a me sinceramente ormai siamo controllati da tutti i punti di vista nel senso che ormai se avete anche un solo social network se avete anche solo lo smartphone se avete anche solo un computer se avete anche solo un dispositivo elettronico sanno quante volte andate in bagno a momenti e vi fanno più o meno la stima di quando finite la carta igienica quindi in realtà non è un grosso problema però